Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000, ha infuocato i social parlando dell'imminente ritorno di Mauro Icardi in Nerazzurro. Nel corso di un'apparizione al programma La vita su diretta, Alessi ha fatto eco alle indiscrezioni commentando la recente vittoria di Vanda Nara ballando con le stelle. Si è lasciato sfuggire il possibile ritorno del fuoriclasse argentino all'Inter, suscitando scalpore dietro le quinte del calcio italiano. Qui vi do un piccolo scoop, a Milano dicono che potrebbe tornare a giocare nell'Inter e spero che sia così, ha detto Alessi, creando una miccia di speculazioni e speranze tra i tifosi ferventi. Rimani fino alla fine per non perdere nessun dettaglio, metti mi piace al video per non perderti le prossime news dell'Inter. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo suscitato dalle insinuazioni di Alessi, restano dei dubbi sulla veridicità di queste informazioni. Non so se sia vero, comunque la loro prima casa è Milano, rifletteva il regista, lasciando nell'aria un alone di mistero. La ripercussione fu immediata. Mauro Icardi, noto per aver suscitato intense reazioni sui suoi social, ha presto alimentato ulteriormente le speculazioni. Il suo criptico post su Instagram ha fatto impazzire i fan, famiglia, amore e nuove opportunità. Così inizia il 2024. Il sottotesto di questo enigmatico messaggio ha provocato una vera e propria tempesta di ipotesi e domande tra i tifosi dell'Inter. Del resto, cosa intendeva esattamente Icardi per nuove opportunità? Potrebbe trattarsi di un velato riferimento al suo possibile ritorno nel club che un tempo era la sua casa nel calcio italiano? I tifosi nerazzori si sono trovati inondati da un'ondata di emozioni e aspettative di fronte a questa incertezza latente. Il ritorno di un idolo risveglia sempre sentimenti contraddittori e una serie di aspettative. Nel caso di Mauro Icardi, figura controversa e allo stesso tempo talentuosa, un possibile ritorno all'Inter potrebbe significare un nuovo capitolo nella storia del club. Il ritorno dell'ex capitano potrebbe riaccendere la fiamma della passione tra i tifosi, portando con sé la promessa di rinnovata gloria e rinnovata speranza di successo in campo. Qual è la tua opinione su questo? Credi che il ritorno di Icardi sarebbe una benedizione o un mistero per il futuro del club? Le piacerebbe rivederlo nel club nerazzorro? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto!